Autografi notturni, da notare come siamo acchittati comunque Dovete sapere che poco tempo fa ho scoperto che il mio personal trainer Testava i giochi per la Nintendo, cioè era talmente forte che gli davano i giochi e lui doveva testarli prima che uscissero Poi ha giocato talmente tanto alla Nintendo che gli venivano gli attacchi epilettici, ha dovuto smettere Guardate che sa tutte le mosse a memoria, fammi una Duken, Ryuken, Duken, c'è incredibile raga E' andato in banca, vince facile, non ho parole Mentre mio figlio parla di più con lui che con me praticamente, cioè quando vede me non mi caga Quando vede lui ci parla, questa è un po' la situazione attuale della mia famiglia Cosa è successo? E' il paradiso dei cuscini amore E' il paradiso dei cuscini Esatto Vedere come ti piace il beatbox No, ti è arrivato uno spunto, amore, no Per il post-workout vi consiglio Food Springer Sono buone e piene di proteine E' il paradiso dei cuscini Che pistola Amore, ma che manesco Povero papi, povero papà Reunion post-Maldive Sì, sì Grazie a tutti 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 So next on my agenda I'm gonna go to the South of Italy tomorrow and Friday And then to Paris for Couture from Sunday night Matti, what are you doing here? This is the situation Buon ragazzi Vi volevo parlare ancora di Beauty Bytes La nostra masterclass che si terrà a Milano il 9 e 10 febbraio E per tutte le amanti del caffè americano Vi volevo far vedere come sarà il bar di Beauty Bytes Spero vi sia piaciuto questo piccolo assaggio di tutto quello che sarà Beauty Bytes Sarà anche molto di più di questo E so che sarà un'esperienza incredibile per tutte le persone che parteciperanno Per chi non ancora aveste preso i biglietti Fate sui papà Sushi dinner with Simo and Keita And my baby Good morning guys from sunny Calabria I'm here with Guerlain for the launch of her new fragrance And it's my first time And I'm so excited These are so cute Thank you Guerlain And these ones too And this is my look Ready to explore Calabria And this is my first time All'altro We do this way Normally we do this way But also if it's green Is it ready to be used for perfume? Sure absolutely That is a very important point Because each perfumer hanno una selezione con le questioni come quanti mi piace per il mio bergamotto? mi piace! Grazie a tutti. Grazie a tutti.